Mafia, estorsione e traffico di droga. E' questa la cornice investigativa che all'alba di questa mattina ha dato il via all'operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento e del ROS con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani, Enne e Caltanissetta, del Nucleo Carabinieri Cinofili e dello squadrone liportato Carabinieri Cacciatori. Il blitz ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA a carico di 9 persone, 5 delle quali destinatari e della custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari, mentre a una è stata imposta l'obbligo di dimora. Quest'ultimi sono gravemente indiziate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Inoltre sono state eseguite 23 perquisizioni personali e locali, di cui 3 in carcere, nei confronti dei destinatari dei provvedimenti e di altri indagati a vario titolo nello stesso procedimento penale. La maxioperazione denominata Condor scaturisce dalle indagini condotte dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Agrigento e da quella denominata Xidi, condotta dalla ROS e che già nel febbraio 2021 aveva registrato una prima fase esecutiva. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno consentito di conoscere e scoprire gravi indizi sull'assetto mafioso nel territorio di Favara e in quello di Palma di Montechiaro, quest'ultimo caratterizzato come accertato da sentenze definitive dalla convivenza dell'articolazione territoriale di Cosa Nostra e di formazioni criminali denominate Paracchi sul modello della Stidda. Da lì il tentativo, secondo le indagini, di uno degli indagati di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese, principalmente a Favara e al villaggio Mosè di Agrigento. In tale ambito sono emersi gli asseriti rapporti dal vertice della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro con l'Andrina Calabrese ed è Barbaro di Platì. L'operazione ha permesso inoltre di scoprire pesanti interferenze di Cosa Nostra nel settore economico, nel controllo illecito delle slot machine, oltre all'attività estortiva nei confronti di imprenditori e imprese. Le persone arrestate nell'operazione Condor sono Nicola Ribisi, 42 anni, disoccupato di Palma di Montechiaro, Domenico Lombardo, 30 anni, commerciante di Agrigento, Giuseppe Chiazza, 51 anni, disoccupato di Palma di Montechiaro, Giuseppe Sicilia, 44 anni, di Favara, già detenuto nel carcere di Novara e Baldo Carapezza, 27 anni, operaio di Palma di Montechiaro. I domiciliari sono stati disposti dal GIP per Ignazio Sicilia, 47 anni, manovale di Favara, Salvatore Galvano, 52 anni, manovale di Agrigento, Francesco Centineo, 38 anni, disoccupato, residente a Palermo e Giovanni Gibaldi, 35 anni, di Ricata. Obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo giornaliero di presentazione negli uffici della Polizia Giudiziaria, infine, per Luigi Montana, 51 anni, di Ravanosa.